La Guardia di Finanza e la Polizia hanno condotto una maxi-operazione in diverse province d'Italia, che ha portato a 70 arresti e sequestri per oltre 35 milioni di euro. L'indagine si è concentrata su una cosca mafiosa di matrice Stidara con seda Brescia, colpevole di aver inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittizi. La versione settentrionale della Stida, pur mantenendo lo stampo mafioso, ha introdotto un nuovo modo superanti nelle operazioni, utilizzando come intermediari tra mafiosi e imprenditori i colletti bianchi, il cui compito era individuare tra i propri clienti quelli disponibili a risparmio facile. I carabinieri hanno eseguito dieci misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti sospettati di appartenere ad un'organizzazione mafiosa che gestiva il racket delle estorsioni sulla costa ionica della Basilicata, in particolare ai danni di imprese ortofrutticole. Gli indagati sono sospettati di estorsioni, incendi dolosi, tentati omicidi, rapine e spaccia di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti da un centinaio di militari con l'ausilio di un elicottero e unità cinofile. È stato diffuso il documento dell'accordo raggiunto a Malta riguardante la ripartizione dei migranti nel territorio europeo. Tale intesa prevede la validità di sei mesi del meccanismo per il collocamento dei richiedenti asilo e la possibilità di un rinnovo, ma, come si legge nel documento, nel frattempo occorrerà andare avanti sulla riforma del sistema comune d'asilo, sulla base di un'iniziativa della Commissione. Se nei sei mesi il numero dei ricollocati dovesse aumentare in modo sostanziale, gli stati che partecipano si riuniranno per consultazioni, durante le quali il meccanismo potrà essere sospeso. La dichiarazione prosegue stabilendo che, comunque, occorre assicurare che questo meccanismo temporaneo non apra nuove strade regolari verso le coste europee ed eviti la creazione di nuovi fattori di attrazione. Dal 1 ottobre si prevede un aumento delle bollette di luce e gas del mercato tutelato. La RERA ha infatti stabilito una crescita del 2,6% per l'elettricità e del 3,9% per il metano. A gravare sono l'andamento stagionale e il mercato internazionale, che vede la riduzione della produzione di gas olandese e il divieto d'accesso ad alcuni gasdotti, oltre agli aumenti del petrolio, conseguenza degli attacchi alle piattaforme petrolifere. Nel 2009 la spesa delle famiglie risulterà fondamentalmente invariata rispetto al 2018, più 1%.